Amici 22, la sfuriata di Alessandra Celentano gli altri prof, rischio per colpa vostra. Manca ancora poco al serale di Amici 22 e la tensione per gli allievi sale. La produzione ha stabilito che a poter accedere alla gara finale possono essere un totale di 15 studenti su 17. Maria De Filippi, dunque, ha annunciato il ritiro delle maglie d'oro già assegnate e ha disposto una gara interna tra gli alunni per stabilire i più meritevoli. Ma non tutti i professori sono d'accordo. Tra questi, Alessandra Celentano che non ha nascosto il suo disappunto. Maria De Filippi, il ritorno ad Amici con la voce rotta dal pianto, torno a lavorare, così mi hanno insegnato. Amici, il serale, tutti gli allievi alla fase finale del programma. Per il fatto che non sono stati eliminati allievi che dovevano essere eliminati. E perché non sono state date maglie, io oggi rischio i miei allievi. Voi non avete dato le maglie e non avete fatto quello che dovevate fare. Io mi sono organizzata, ho fatto delle scelte, a partire da Rita Ipachi. Ho dato le maglie che dovevo dare e adesso le rischio perché voi non avete fatto le vostre scelte, dice la maestra di danza classica. Generando una discussione in studio, placata solo dall'intervento di Zerbi che ha appoggiato le dichiarazioni della Celentano. Partirà il 18 marzo il serale di Amici 22 e i docenti, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Imani Uello. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, sono chiamati a decidere quali allievi sono meritevoli della maglia d'oro. Al momento, Wax è entrato ufficialmente tra i 15 concorrenti del serale. Il cantante di Arisa, protagonista dei gravi fatti di Capodanno, ha ottenuto la maglia. Questa decisione, però, non è stata condivisa da una parte del web che ha polemizzato con la scelta dei docenti su Instagram, obiettivamente è stato mandato al serale perché è fascio e non perdoti canore che non ne ha. Non, non, non mai am nimic de ascuns, pot să mă russi tot mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Stii, nimic nu mai e la fel, pupilaria s-a maturizat sever. S-a luvit pana acum de fel, de fel, de oameni, de pareri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt multi, dar... Grazie a tutti.